Finalmente Cernopilite nella sua versione next gen, ve l'avevo promesso sono settimane, mesi anzi che parlo di questa reedizione in arrivo che dovrebbe portare il titolo a un livello qualitativo pari, spero, alla versione PC che era la più bella fra tutte quante Cernopilite su PS4 aveva qualche problemino di framerate, di fluidità, spero che adesso su PS5 le cose siano completamente risolte e lo scopriremo insieme adesso Ok, nuova partita Questo per chi non lo conoscesse ancora è un incrocio, per certi versi, tra Metro e Fallout Perché fa Metro e Fallout? Perché ha un po' l'ambientazione di Metro e una componente ruolistica anche di crafting, di gestione della base che ricorda Fallout, però non è a livello di Metro né a livello di Fallout, li ricorda entrambi Affinché sia, che sennò la gente, qui sono venuti qua, oh perché non è bello, grazie E andiamo Sono sinceramente curiosissimo a sto giro E andiamo 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 Mi piacerebbe tornare dopo molti anni, non è vero? Ivor, ma che cosa cosa? Tu non si soppi. Inizia! Il framerate è stabile non ci sono cali estremamente fluido adesso vediamo quando parte l'effettistica dell'introduzione quella bella non ci sono Tieni ragazzi Devo dire Che hanno fatto un bel lavoro Finalmente abbiamo la versione console Dignitosa E' un po' lo shooting Allora vi dirò di più Che hanno fatto anche un buon utilizzo Del trigger adattivo Cosa io non mi aspettavo Feedback haptico e trigger adattivi Spettati in maniera Gradevole Aggiungono quel qualcosa Ma va Tanto era previsto Sì ragazzi ci siamo Finalmente lo posso consigliare anche su console Il gioco perché all'epoca vi ricordate Quando parlavamo della versione PS4 Era difficile consigliarla Proprio a livello di Di fruizione del contenuto Era complicato con quella versione Non mi sembra Dio! Per il video era insostenibile a livello di prudità questa parte intanto vediamo un attimino se mi dà qualcosa delle opzioni no non è neanche in questo caso un po' l'inglese non penso che l'ho mai sentito la testa dondolante la leviamo limitiamo il motion sickness questa è una cosa che dovreste tenere sempre a mente ragazzi se soffrite di motion sickness cioè la nausa con i giochi in prima persona dovete levare il dondolio ogni gioco ce l'ha nominato in modo diverso ma fondamentalmente è la stessa cosa non c'è la scelta tra risoluzione e framerate per una volta quindi si vede che hanno fatto un lavoro unico allora parti elettriche elettroniche non c'ho abbastanza che me manca? mi sembrava di aver preso tutto evidentemente no che me so perso che me so perso ecco buono anche il doppiaggio in inglese quello stupidamente non l'ho mai provato tutte le volte che ho fatto il suo gioco era sempre russo allora che mi sembrava di aver guardato Sì. Non ti dicono, qualcosa sta a livello. Ci sono troppo molti contratti per una piccola zona. Possiamo sbagliare i contratti. Probabilmente alcuni dei regecchi di Wagner. F***a! Ho forza lungo i suoi testi, ragazzi! Sì, sto solo messo, Anton. Focassiamo a prendere il nostro professor qui, alcuni di questo... Chernobylite? E' quello che si chiamano? Igor? Igor! Ok, i caricamenti sono piuttosto rapidi. Sì. Ma che? Devo aver finito un momento. Andiamo. Che sei? Ok, devo dirvi... Professor? Se pensi di tornare, ti devi dire ora. Non c'è chance. Siamo arrivati. Avendo sperimentato il gioco su un PC di alta fascia, posso dirvi che non è poi così dissimile, eh? Igor, per favore. E sì, lo farà. Tu due ti occupi il vostro parte e io ti occupo il mio. Ok? Proviamo a mantenere un profilo low. L'ultima cosa che vogliamo è una guerra. Una guerra? L'ultima cosa si tratta, Igor? È necessario. È qualcosa che deve essere fatto. Non mi piace riddles, professor. Ma tu sei il boss. Mi ricorda di un'ottima in Siria. Ricordi, Olivier? Sì, infatti. Il fatto più da l'allure. Provello che non si tratta. Non si tratta. Divino, vieni. Avete, vieni. Vieni! 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 Non si tratta! Vieni! 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 in the sewers sewers, oh and down into the underworld we go it's nothing but a hole in the ground Anton does anyone else feel itchy? so, how bad is the radiation around here these days? it's been a long time, right? do yourself a favor and don't think about that right now let's focus on doing the job and getting out of here in one piece Igor, if the shit hits the fan get yourself out of sight until we take care of it, okay? don't be a gyroi don't panic, Olivier no gyroi's here only some desperate people walking into the heart of darkness no talking go after you, Igor ladies and eggheads first funny guy, huh? shit, Igor, get down get to the sewer entrance we're right behind you oh false alarm must be those freaking rats again and in the second half of the game as well like me the eye of the scoops should get angry quite the app and that truck didn't drive here on its own keep your eyes open and your mouth shut stay in the shadows become invisible so, you were inside the lab? yeah, for a bit see anything interesting? no interesting is above my pay grade I've done 40 times this introduction every time I don't remember Igor, hey, over here allez c'est via you sure this is the right entrance? I used to work here, remember? yeah, I'm sure Igor, take a rad reading, will you? 3.6 not great not terrible chin up we're safe for another hour or so alright? none of you are safe I hope you have a good memory ok, I'll take point yes, sir captain olivier, sir you sure this device of yours works, Igor? I don't have time for getting into details right now but yes all it needs is more chenobalite chenobalite right the most radioactive compound on earth that's what you called it the man knows what he's doing, Anton stay focused complete the mission we'll all be laughing about this over a beer before you know it the readings are bad the numbers are too high we have to get out of here we can't leave him behind, dear God let me out of here let me out Alexander Borisovich someone has to open the valves manually someone has to go inside oh, two hostiles ahead quiet Anton the last one the last one is yours I'll take I'll take the last one, Olivier oh, look at Brightboy over here ok, it's your show but if you get us killed I'm going to be pissed I don't see any leaks let's get out of here and report when you're going to plan I'll get out of here I'll get out of here on the other side ...d'exerire il plan. ...I'm accessing... ...Igor don't! ...Tatiana? ...What are you stalling for, Igor? Time is critical here. ...Didiela Vedida. ...Did you hear that? The voices? ...That's not the kind of question I want to hear right now, Igor. Are you okay? Don't do it, my love. Don't do it. Shit, 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 I can't! I can't press the button! Suit yourself, Anton. Let's move. The reactor room, now! ...The reactor room, now! We had a plan, Igor! Why didn't you just press the damn button? You don't have long. Run! ...Radiation. Anton! Please, you're stressing me out! It's even colder than I remember. You've seen one of these before, haven't you? A much smaller fragment, but enough of my initial studies. Are you going to tell me how this fancy gun of yours works? It creates a kind of shortcut through time and space. It's called a wormhole. It forms a tunnel with two mouths. It needs an exotic energy source to keep it open. Exotic energy? That's the Chernobylite? Exactly. And where does this shortcut lead? It leads wherever it needs to. Let's leave it at that for now, alright? What? My fiancée. She disappeared here during the disaster 30 years ago. Yeah, can we talk about her later? Grab the crystals and let's go. Oh my god, help me! You... Why are you here? Eita. It's a strange story. Olivier? Where did you go? Olivier! What the fuck was that? Listen. Jesus, I'm so sorry, Olivier. Anton was... he was a good man. Who was the fucker? Hell if I know. Somehow he used the negative energy of the Chernobylite to teleport. Ora, per confermare questa teoria... Stop! Non importa ora. Si può arrivare a noi qui? E dove è qui, all'inizio? Siamo in una città, collegando due singolarità. È abbastanza corta, e non molto stabile, quindi bisogna andare. Hai capito? E no, non può arrivare a noi qui. Cioè, è possibile in teoria, ma è molto semplice. Non voglio sapere. Scusate, veniamo fuori qui. In questo modo. Voi venire da vicino di Micheal, spero. Scusate, allora. Il mio braccio... Mi sento che i muscoli hanno stato spostati dall'interno. Scusate di esecutare questo nero maschile, Anton. Scusate di te. Quindi... Lo apprezzerete, il gioco, su PS5. Rispetto alla PS4 che... Non è quello che era. È come un uccanello, scendendo la pelle, sempre e sempre e sempre. Tu devi apprezzarlo sempre e sempre. Scusate. 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 Bene. Ragazzi, io direi che per il momento... Per il momento. Potremmo fermarci qua. Fatemi sapere cosa ne pensate, che persone vi ha fatto e se l'avete già giocato. In modo che, insomma, si possa anche aggiungere qualche parere a quello... A quello del sottoscritto. Io... C'è Roby Light, credo sia uno dei titoli più interessanti fra... Fra quelli usciti nel mercato tendenzialmente indie degli ultimi anni. Eh... Però chiaramente tanta gente è rimasta delusa perché si aspettava qualcosa a livello di Metro. Che... Che non è. Che non è. Però è una valida alternativa. È un titolo complementare a Metro. Un titolo complementare a quello che ha Fallout con una... Di schede anche possibilità di... Di... Di interazione. Per cui... Datevi una chance. Potrebbe stupirvi positivamente. Detto ciò, ragazzi, io vi mando un abbraccio. Fatemi sapere e noi ci vediamo. Alla prossima.